Oper PD Alberone, siamo con Alessandra Sacchi, Assessore alle politiche sociali del nono municipio. Il significato di questa giornata Alessandra? Un momento molto importante per noi perché abbiamo pensato di portare al centro dell'attenzione finalmente i programmi, quindi passare da un momento che è stato molto mediatico e molto finalizzato anche all'esposizione dei candidati a un momento di riflessione e di condivisione del programma del Partito Democratico e del centro-sinistra che andrà a candidarsi a governare il nostro paese e la Regione Lazio e quindi fare un focus proprio sui temi principali della campanella. Come si è svolta la settimana di organizzazione? Abbiamo visto sopra che ci sono anche dei momenti ludici? Sì, abbiamo pensato di fare un'intera giornata dedicata a questi momenti di approfondimento che però viene intervallata da momenti più ludici, più conviviali anche perché abbiamo appuntamenti sui temi e poi una colazione democratica con torte fatte in casa da un ristorante che è più vicino e che è stato molto carino con noi, ci ha fatto un prezzo estremamente favorevole e quindi farà per noi il catering, è il ristorante Mythos di Mario che sta qui dietro e quindi abbiamo una colazione democratica a base di torte e di succhi di frutta e poi naturalmente caffè e volontà e poi avremo dei momenti un brunch all'ora di pranzo e questa sera una pericena come ormai va molto di moda, quindi noi siamo sul pezzo. Grazie, buona giornata.